Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In apertura parliamo di Covid, crescono i casi di contagio in Campania a Castellammare, registrati 89 casi nelle ultime 24 ore, mentre a Torre del Greco registrati due decessi. In affanno gli ospedali dell'ASL Napoli 3 Sud, tante le difficoltà nella gestione dell'emergenza sanitaria da Sorrento a Torre del Greco. Misure di sicurezza sempre più rigide, pronte zone russe per alcune città campane. Abbiamo ascoltato l'opinione dei cittadini. Questa mattina a Dercolano la commemorazione di Salvatore Barbaro, vittima innocente della faida Traclano. Spazio alla cronaca, sequestrate all'aeroporto di Napoli oltre 400 capi di abbigliamento e accessori vari contraffatti. Denunciati quattro responsabili. Buffera mediatica sui social dopo l'annuncio della spesa di 250 mila euro da parte dell'amministrazione comunale per l'accensione delle luminarie a Torre del Greco. L'assessore Pensati fa chiarezza. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Salgono i casi di contagio da Covid-19 in Campania. Nella giornata di ieri registrati 4.065 casi positivi su 23.840 tamponi effettuati. Cresce la tensione anche nei comuni del Napoletano. Ieri sera il presidente Vincenzo De Luca ha annunciato una serie di nuove ordinanze restrittive per incrementare le misure destinate al contrasto all'epidemia. Si attendono quindi nuove zone russe nelle città della Campania dove si registra un livello alto di contagi e dove è indispensabile una drastica riduzione della mobilità. Nel comune di Torre del Greco ieri certificati 38 nuovi casi di positività al Covid-19 di cui uno ospedalizzato e 37 in forma sintomatica. Attestati anche due decessi classe 1951 e 1948. Salgono quindi ad 11 i decessi nella seconda ondata della pandemia. Boom di contagi nel comune di Castellammare. Si contano 89 cittadini contagiati nelle ultime 24 ore. Focolai in una residenza sanitaria assistenziale dove sono risultati positivi 43 ospiti su 65 e 15 operatori sanitari. I pazienti sono stati isolati e al momento nessuno destra preoccupazione per le condizioni di salute. Diventa nuovamente pesante il bilancio dei nuovi positivi per la città di Castellammare di Stabbia. In questo momento l'attenzione è rivolta però all'ospedale San Leonardo, unico punto di riferimento di un comprensore enorme e un'ingrossa difficoltà. E' a ciò che sta accadendo all'interno della residenza sanitaria assistenziale denominata Oasi San Francesco, ha fermato il sindaco Gaetano Cimmino. Mini lockdown a Torre Annunziata, vista la crescita esponenziale di positività al Covid-19, il sindaco Ascione ha deciso di chiudere i luoghi della Movil. In primis via Gino Alfani, la famosa curva, meta preferita, specie nei fini settimana, di migliaia di giovani che si ritrovano per trascorrere piacevoli serate con gli amici, ma anche la villa comunale e la spiaggia. Ospedali in affanno, malati allo sbando, carenza di posti letto, contagi in aumento e non mancano i decessi. Un dramma per familiari e pazienti che non riescono a trovare in tempo adeguata assistenza. Tante le difficoltà nella gestione dell'emergenza sanitaria da Sorrento a Torre del Greco. Nell'Asla Napoli 3 Sud attualmente sono aperti, anche per pazienti no Covid, i pronti soccorsi di Castellammare, Nola e Sorrento. In particolare, nei giorni scorsi, l'azienda aveva chiarito che il pronto soccorso del San Leonardo durante tutta l'emergenza pandemica non ha mai chiuso e, nonostante le gravi difficoltà operative dovute all'enorme afflusso di pazienti, continua ad offrire i propri servizi sanitari. Intanto, questo pomeriggio, i vertici aziendali hanno convocato tutti i responsabili dei presidi ospedalieri per illustrare il nuovo piano di rimodulazione degli ospedali dell'azienda per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nell'Asla Napoli 3 Sud. Secondo i vertici aziendali, occorre attivare una più adeguata e diversa gestione delle attività sulla scorta dell'attuale e crescente curva epidemica registrata sul territorio aziendale, con un'offerta fondata su un numero sufficiente di aree assistenziali, con adeguata distribuzione territoriale, per assicurare un idoneo e consistente numero di posti letto nelle diverse discipline che caratterizzano il percorso del paziente Covid, ma che abbia in debito conto il mantenimento dell'assistenza sanitaria per le altre patologie urgenti non Covid. Il piano discusso questo pomeriggio sarà presentato alle organizzazioni sindacali e inviato successivamente ai sindaci dei comuni. Intanto, in programma lunedì alle 9.30, un sit-in dinnanzi alla sede della Direzione Generale dell'ASR Napoli 3 Sud a Torre del Greco, promosso dall'Associazione Promaresca, per chiedere la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale torrese. Invitati a partecipare anche i sindaci di Torre del Greco e Dercolano. Chiediamo di essere ricevuti dal direttore generale. Dicono, il pronto soccorso dell'ospedale torrese deve essere aperto anche per pazienti no Covid. Misure di sicurezza sempre più rigide, sì, ma necessarie. Commentano così i cittadini di Torre del Greco le nuove restrizioni in arrivo per la Regione Campania. Proprio in queste ore gli organi competenti, infatti, sono al lavoro per istituire possibili nuove zone rosse per quelle città che contano maggior numero di contagi. Limitazioni in arrivo anche per le attività commerciali nel fine settimana. In arrivo nuove restrizioni in campagna, probabilmente molte zone diventeranno zone rosse. Che cosa ne pensa? Avrebbero dovuto farlo prima, perché così almeno avremmo fatto un Natale più tranquillo. Invece adesso forse è troppo tardi. Ha paura? No, paura no, però il pericolo ci sta. Dobbiamo convivere fin quando non esce il vaccino. Una volta che uscirà il vaccino, speriamo che finisca presto questa cosa, perché a noi commercianti ci sta penalizzando moltissimo. Pare che arriveranno restrizioni, soprattutto in merito alle attività commerciali, nel fine settimana. Infatti, questa è la preoccupazione più grande, perché i commercianti ormai già stanno moltissimi con le spalle al muro e questo sarà il colpo di grazia che parecchi potranno chiudere e non prevedere più. Lei è preoccupata? Io sì, assolutamente sì, perché hanno chiuso le scuole per i bambini e poi hanno lasciato comunque centri di terapie locopediste aperte. Quindi, a che cosa serve? A nulla. Perché se i miei figli non vanno a scuola, automaticamente non dovrebbero frequentare nemmeno un centro. Saremo peggio di prima, peggio, ma molto peggio, perché è impossibile, è impossibile una cosa del genere. Perché la mattina siamo zona gialla, la sera diventiamo zona rossa. Da che cosa dipende? Sinceramente è un po' un caos, perché da un lato c'è la salute pubblica, dall'altro il problema sono le attività economiche che avranno ingenti danni economici. Quindi, non lo so, bisognerebbe anche responsabilizzare un po' le persone per evitare assombramenti inutili. Tipo entri nel bar, fai la consumazione e poi non ti assembrare con altre persone, vai via. Hanno avuto tanto tempo per organizzarsi e non si sono organizzati per niente. Cioè gli ospedali sempre fatiscenti, sempre mancanza di personale e non ne parliamo di posti letto. Alcune zone probabilmente diventeranno zone rosse, è giusto secondo lei? Per evitare il contagio, sì, però si dovrebbero tutelare sempre le attività economiche. Basterebbe fare delle zone nel comune, farle diventare rosse e quindi dare maggiore libertà alle altre zone, meno affollate. Nuove restrizioni in arrivo per la campagna, probabilmente alcune zone diventeranno rosse. Che cosa ne pensa? Penso che se hanno valutato così, hanno valutato bene, avranno valutato persone che ne sanno più del comune cittadino. Noi cittadini dobbiamo attenerci assolutamente alle direttive perché altrimenti davvero non si capisce niente. Già la regionalizzazione di queste norme rende tutto così complicato. Tantissima paura e soprattutto un po' di zona rossa ci vuole perché magari fermiamo un attimo un po' questa situazione che ormai è insostenibile per chi ha bambini, anziani. Speriamo che va tutto bene. Mi dispiace purtroppo per l'economia, però un po' per le restrizioni, almeno anche un mesetto ci vuole, secondo me. Nuove restrizioni in arrivo per la campagna, limitazioni per le attività commerciali nel weekend. Che cosa ne pensa? Probabilmente sono adatte perché se le persone si vogliono organizzare riescono ad organizzarsi comunque durante la settimana. Che Natale ci aspetta? Probabilmente proprio più ristretto e basta. Però sono ottimista per il futuro. Hanno deposto una corona di fiori ai piedi della sua lapide. Questa mattina d'Ercolano la commemorazione di Salvatore Barbaro, vittima innocente della faida Traclan. Il 13 novembre 2009 fu barbaramente assassinato a Via Mare. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'amministrazione comunale. Ricordiamo Salvatore Barbaro, ma ricordiamo anche una città che prima era lo stagio della malavita organizzata. È grazie al coraggio dei commercianti e al lavoro straordinario delle forze dell'ordine e della magistratura ad essere una città libera. Questa strada verrà intitolata a Salvatore Barbaro perché vogliamo ricordare un ragazzo che è stato ucciso per errore, semplicemente perché guidava la stessa auto di un boss. E anche qui verrà riqualificata questa strada attraverso una passeggiata archeologica, perché l'obiettivo dell'amministrazione è costruire, è costruire intorno alla cultura e alla legalità. Dove prima c'era la camorra, domani dovranno esserci i turisti, i giovani e la bellezza. Ricordare chi ha perso la vita per una situazione di fatto che per fortuna sta cambiando, grazie all'attività meritoria dell'autorità giudiziaria, dei carabinieri, della polizia, cioè di tutte quelle forze sane che agiscono sul territorio e dal quale ci si aspetta ulteriore riscatto. Perché questo è il bello di questa regione, di queste zone, che c'è l'energia, la competenza per fare bene, per risolvere un territorio che ha bisogno di legalità, che ha bisogno di serenità, che ha bisogno di quieto, per crescere nella cultura e nel lavoro. Una vittima innocente, una delle tante vittime innocenti. Qui, 11 anni fa, era il 13 novembre del 2009, ma l'importanza del ricordo e della memoria è fondamentale per le generazioni che non hanno vissuto quel periodo, perché certo oggi Ercolano non è più quella Ercolano lì, c'è stata l'associazione anti-racket, c'è stata una mobilitazione della società civile, però è una ferita che non è ancora chiusa e non sarà chiusa. Questo è il punto per cui l'importanza della memoria è fondamentale, per evitare anche. La conoscenza ci aiuterà a evitare di tornare in quel disastro che è stato Ercolano fino a pochi anni fa. Attenzione, anche perché non abbiamo vinto. I funzionari dell'Agenzia Dogane Monopoli, unitamente ai finanzieri della campagna di Capodichino, nel corso di una serie di controlli effettuati su passeggeri in arrivo da Istanbul, hanno sequestrato oltre 400 capi di abbigliamento e accessori vari contraffatti di numerose note case di moda. I passeggeri, giunti presso l'aeroporto con grandi bagaglie e borse da stiva, dove era stata occultata la merce contraffatta, al momento del controllo non sono stati in grado di produrre documentazione valida a prova dell'acquisto e dell'originalità dei prodotti. Il materiale sequestrato, composto principalmente da t-shirt, polo, jeans, giubbini, calzature, borse, marsupi e tracolle, era sprovvisto del packaging tipico dei grandi marchi per permettere ai soggetti di trasportare un maggior numero di pezzi. Consultati i periti delle società titolari dei marchi, questi hanno accertato la fedele imitazione degli originali, tale da trarre in inganno gli eventuali acquirenti finali. Gli articoli sono stati sequestrati, mentre gli autori dell'illecito, in totale quattro responsabili, sono stati denunciati dall'autorità giudiziaria per contraffazione e ricettazione. L'operazione conferma l'efficace sinergia tra l'Agenzia delle Dugane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza di Napoli nel contrasto ai traffici illeciti. Lasciare una città al buio non faceva che mettere dolore su dolore. Con queste parole, l'assessore alla cultura e agli eventi di Torre del Greco Enrico Pensati risponde alla bufera mediatica nata dopo l'annuncio di fondi investiti dall'amministrazione comunale per gli eventi natalizi e per l'accensione delle luminarie, nonostante la crisi economica che il Paese sta affrontando a causa della pandemia. Non mi sottrago a quella che è la polemica relativa prevalentemente all'accensione delle luminarie. Mi corre l'obbligo precisare che non è una delibera proposta da chi vi parla, ma chiarito ciò, solo per non togliere merito al proponente, chiaramente è una delibera che personalmente, come Giunta, sosteniamo fortemente, perché non possiamo non tener conto di quelle che sono le fasce maggiormente colpite da questa pandemia, da questa emergenza legata al coronavirus. Il Natale è prevalentemente la festa dei bambini e gli anziani vivono delle difficoltà legate soprattutto alla solitudine del loro stato. Quindi lasciare una città al buio, francamente, a mio avviso, era assolutamente sbagliato e non faceva altro che mettere dolore su dolore. Quindi per quanto mi riguarda benvengano anche le luminarie. Pronta una spesa di 250 mila euro per le luminarie e 75 mila per la programmazione degli eventi natalizi. Abbiamo l'obbligo, come comune, di programmare delle attività. L'anno scorso abbiamo avuto una mostra particolarmente rilevante nella nostra città, fatta a Palazzo Baronale, che ha richiamato migliaia e migliaia di visitatori. L'intenzione quest'anno è provare a riproporla, quindi mettendo in risalto quello che è l'artigianato locale, il corallo, il cammeo. Chiaramente non potendola fare in presenza, proveremo a farla in maniera virtuale, in 3D, con delle visite guidate, dove ogni cittadino potrà da casa ammirare questa mostra. Sono delle iniziative in itinere che proveremo a mettere in campo, ma che non hanno sicuramente dei costi esorbitanti. E oltre le luminarie e gli eventi natalizi, il comune ha pensato alle categorie più colpite dalla pandemia? Infatti io penso che se c'è stato forse errore da parte dell'amministrazione comunale è quella di non aver comunicato tutto quello che si è messo in cantiere. Perché si è parlato tanto delle famose luminarie, non si è visto che nella stessa variazione di bilancio c'è un fondo cospicuo di 100 mila euro che vanno alle categorie sociali più disagiate, con i sei basse. Contiamo già entro fine mese di dicembre di aver consegnato i cosiddetti voucher alimentari. Un impegno portato avanti dall'assessorato alle politiche sociali, che anche questo abbiamo condiviso di comune accordo. C'è un centro, una consulta che verrà attivata per il sostegno anche psicologico a favore degli anziani e tutta una serie di iniziative. Chiaramente tutto quello che non verrà speso dagli altri sottori, quindi vi compreso l'assessorato eventi e cultura che non spenderà la cifra che ha assegnato in bilancio, verranno su indicazione del sindaco assegnato alle politiche sociali. Quindi proprio per andare incontro alle categorie disagiate. Previsti quindi dei fondi speciali per la riqualificazione di alcune aree del territorio e contributi per le famiglie indigenti. Questo è prioritario, è il primo compito. La valutazione che poi è stata fatta è quella di non lasciare comunque, ripeto, ai bambini e agli anziani una città triste. Quindi sicuramente ci saranno in primis le spese a favore delle categorie disagiate. Ma non solo questo. Nella famosa variazione approvata in Consiglio Comunale dalla maggioranza consigliare sono previsti interventi importanti di riqualificazione del territorio. Penso all'ammodernamento di via Litorania che si attendeva da anni e che finalmente potrà vedere la luce. Ma penso anche all'allargamento della strada di villa che porta alla villa delle Ginestre, quindi alla villa che ha ospitato Giacomo Leopardi. Tant'anni sono stati fatti soltanto proclami e annunci e sono stati finalmente previsti dei fondi per l'allargamento di quella strada e il recupero di un sito importante dal punto di vista, diciamo, culturale. Quindi chi come me oggi rappresenta alla delega alla cultura ritiene questo tipo di iniziativa assolutamente fondamentale per il rilancio anche del territorio in ottica economica, turistica e culturale. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione-tvcity.it o al numero di telefono 340-6561-484. Grazie e buon weekend! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!